Pane al pane 026884230 Pane al pane at radiolombardia.it Ed eccoci di nuovo in diretta insieme per questa seconda ora diamo il benvenuto, la ringraziamo di essere qui a Silvana Carcano Buonasera Silvana, buonasera a tutti Movimento 5 Stelle, Regione Lombardia ci raggiungerà tra un attimo anche Fabio Altitonante e Forza Italia, sempre per Regione Lombardia Allora come di consueto noi partiamo dal collegamento con l'agenzia di stampa e imprese lavoro a GL News e la voce delle 19 per noi è quella di Daniele Bonecchi A te Daniele Eccoci grazie, un saluto a te naturalmente e a chi ci ascolta la tua ospite Sì, un paio di notizie per oggi problematiche La prima c'è stato un incontro presso la Croce Rossa perché i sindacati sono molto preoccupati i problemi sono quelli di sempre problemi legati all'occupazione al passaggio diciamo di una realtà che in parte è del volontariato e che è un elemento essenziale per l'assistenza I sindacati dicevi, scusa Sì, i sindacati oggi ha fatto una conferenza stampa per denunciare tutta una serie di anomalie Croce Rossa è passata dal commissariamento alla gestione ordinaria a un nuovo commissariamento insomma è in una situazione difficile non è piacevole perché si sa che gli uomini della Croce Rossa le croci sono tante però la Croce Rossa ha una sua storia un suo prestigio sono quelli che arrivano nei momenti più difficili ciascuno dovrebbe pensare a loro con una certa riconoscenza vedremo insomma se l'ente riuscirà a uscire dal pantano ma le notizie di giornata sono due una che si trascina da ieri legata alle vie d'acqua per l'Expo e a quell'incontro che c'è stato col prefetto oggi il sindaco ha detto che non è preoccupato per i lavori di Expo e che gli sembra normale che arrivi un terzo sul commissario quello che ha chiesto sostanzialmente Maroni e che andrebbe ad affiancare gli altri due per collaborare con Sala e qui diciamo si spera nel tempo e che in effetti se dovesse continuare a piovere per altri giorni o altre settimane il che è abbastanza probabile peraltro perché voglio dire già è previsto un lungo weekend di pioggia quindi cioè voglio dire non è detto insomma è un problema il commissario Sala invece è preoccupato e vedremo se potranno riprendere a pieno ritmo a pieno regime i lavori ma per il comune non è l'unica tegola quest'oggi come avrei visto come chi ci ascolta forse avrà già seguito è arrivato un avviso di garanzia per l'amministratore delegato di F2I Gamberale si ricorderà che F2I ha acquisito le quote una parte delle quote di sea del comune di Milano c'era stata un'indagine avviata dalla procura per cui non è bello in un momento nel quale appunto il sistema degli aeroporti è un po' sotto la lente di ingrandimento perché deve sostenere Expo questo rinvio questa vicenda insomma sicuramente non aiuta vedremo c'era anche in discussione una quota di sea da cedere alla regione insomma tutto si complica vedremo comunque la giusta di fare il suo corso ti ringrazio grazie Daniele Bonecchi torniamo in diretta e ci ha raggiunto Fabio Altitonante consigliere regionale di Forza Italia grazie di essere qui anche a lei avevo annunciato la sua presenza prima di lasciare questa serie di notizie che ci hanno portato nel cuore della regione Lombardia ma anche vicino a Expo io ho anche un comitato un comunicato del Movimento 5 Stelle che ci parla di una visita rispettiva di massa che è la risposta del Movimento 5 Stelle alla propaganda partitica che favoleggia della fiera internazionale ovvero parliamo di una commissione regionale antimafia che sarà in visita a Expo un tour dei cantieri che voi farete il 15 marzo quindi le chiedo di chiudere il ragionamento che ci ha fatto Bonecchi anche con questa visita perché questa data è ufficiale ormai è ufficiale e siamo andati però l'altro ieri con la commissione antimafia regionale nei cantieri Expo e abbiamo fatto quella che è stata solo una passerella istituzionale c'è stata la possibilità di fare qualche domanda abbiamo fatto un gesto non vi ha convinto insomma ma no le domande come dire più scomode non le abbiamo fatte ce le teniamo per quando andiamo in massa con parlamentari regionali dentro Expo c'è da dire comunque una cosa è tutto ancora da fare quindi c'è un cantiere davvero distante parecchio distante dalla realtà da quella che è realtà noi abbiamo sempre detto a pioggia c'entra e non c'entra insomma c'entra perché c'entra ma se sei in straritardo è chiaro che non può essere che non svolta però parliamoci chiaro a Milano piove non è che sia proprio una notizia di cui sorprenderci che siamo nella pianura padana ma anche se fosse un autunno un'inverno autunnale piovoso siamo un po' in ritardo ma perché in Italia diamo la scusa al tempo al clima atmosferico quando voglio dire noi non eravamo ancora nati credo nessuno qua quando ancora si usava il famoso slogan piove governo ladro per cui lei mi insegna che insomma no a parte gli scherzi è gravissimo certo è gravissimo e le vie d'acqua grazie al cielo siamo riusciti a stopparle perché anche questa era un'opera davvero che non stava né in cielo né in terra in termini anche di spreco giusto di spreco di denaro pubblico al di là dell'ambiente al di là dell'ambiente c'era anche un discorso di spreco di denaro pubblico inutilità dell'opera devastazione del territorio noi continuiamo a dire l'abbiamo sempre detto Expo sarà un fallimento tutto quello che sta accadendo ci sta dimostrando che sarà un fallimento avevamo l'opzione Expo forse proprio lei come voce all'insediamento in regione abbiamo il coraggio dovremmo avere il coraggio di tornare indietro o ricordo male assolutamente sì siamo stati gli unici a dirlo per tutte le altre forze politiche sono a favore di questo scempio allora altitonante Forza Italia Regione Lombardia quindi cuore di questo che ospiterà questo grande evento ricordavo questa dichiarazione mi sembra proprio di aver letto come comunicato dalla Voce Carcano comunque del Movimento 5 Stelle su avere il coraggio di rinunciare si è andati avanti anche lei la vede così? no assolutamente no Expo una grande opportunità non solo per Milano la regione Lombardia ma per tutta l'Italia addirittura c'era stata anche nella presentazione che aveva fatto Renzi per la fiducia aveva tralasciato questo argomento e subito si è corretto per un semplice motivo perché in questa crisi che ci attanaglia Expo è una di quelle risposte e viene in una congiuntura economica molto sfavorevole quindi può rilanciare l'economia qui a Milano ancora non abbiamo il senso e quindi capisco i cittadini che ancora lo sentono distante l'Expo il senso di quello che sarà perché adesso siamo nella fase dei cantieri che non sono indietro stanno rispettando il cronoprogramma e poi ci sono delle opere connesse Expo come quelle infrastrutturali ci sarà giorni di inaugurazione della M5 c'è stata quindi oggi c'è stata la presentazione alla stampa c'è stata la presentazione alla stampa questa è una tipica opera che si è sbloccata grazie a Expo stanno andando avanti le autostradi la Brebemi la tangenziale est esterna sono stati si inaugureranno a breve dei lotti della Pedemontana cioè delle opere infrastrutturali che il nostro territorio aspettava da 40 anni quindi questo lo dobbiamo ad Expo quando partirà quindi fra qualche mese inizierà ad avvicinarsi l'iniziativa quindi preparativi ci saranno anche tantissimi posti di lavoro creati non solo all'interno del palcoscenico quindi a Ropero ma tutto l'indotto pensiamo solo ai più di 130 paesi ospitanti per i padiglioni quanti posti di lavoro per i giovani ci saranno inizieranno le selezioni fra qualche mese io credo che sia una grande opportunità addirittura la Boccone aveva fatto uno studio prevedendo addirittura 50.000 posti di lavoro diretti subito all'interno di Milano ma è veramente una grande opportunità vi do solo un dato voi pensate che ci saranno 150.000 persone e c'è da valutare anche la questione legalità sappiamo che siamo in Italia giusto sappiamo che siamo il paese più corrosso e qui c'è la vostra visita però sì però è una visita no 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 capito lei sta dicendo gli appalti quindi il lavoro esatto che segue e quindi è una tipologia di assegnazione sì però è il contrario peccato che la prefettura ha già fatto all'incirca più di una ventina ben venga no ben venga no perché è la dimostrazione che la criminalità organizzata evidentemente entra in questi appalti ma non si può allontanare perché se viene allontanata nonostante ci sia un'interdizione da parte della prefettura questa azienda fa ricorso al TAR che lo vince perché il protocollo legalità non serve a nulla e quindi deve essere pure reintegrata ma è la dimostrazione che evidentemente ci sono delle aziende in odor di mafia sappiamo di le due aziende capofile dei due grossi appalti rimozione interferenze e cosiddetta piastra sono CMC e Mantovani SPA la CMC e anche la Mantovani hanno vinto l'appalto principale con un ribasso rispetto al prezzo di gara superiore al 40% superiore al 40% oggi CMC continua a chiedere correttivi di costi aggiungendoli questo perché? perché non è stato in grado ci vengono a dire di valutare correttamente c'è una legge che tutela questo? carcano e altitonante lo chiedo a entrambi beh non c'è una legge purtroppo c'è il codice degli appalti che ha dei buchi perché questa cosa qua ha dei buchi enormi se così è non è possibile che non si possa intervenire non possiamo ascoltare il livello di corruzione che esiste in Italia ma quello è come non esiste come esiste sicuramente come sempre ci daranno ragione i fatti posteriormente io la capisco la carcano fa parte di un partito di un movimento che ha la sua anima nella distruzione non nella progettualità noi avevamo un expo diffuso però non l'ho interrotta però io non ho parlato male del tuo partito ho parlato di quello che viviamo noi stai dicendo che ci sono aziende in odor di mafia che poi il TAR le riammette quindi sembra che la domanda è c'è una legge che poi su questo? c'è una no il TAR l'ha riammessa perché evidentemente quella il TAR l'ha riammessa perché c'è un giudice che ha valutato le carte che aveva fatto perché la prefettura blocca le aziende poi l'azienda ha fatto ricorso ci sono io non so adesso quali ci sono stati un paio di casi che ha dimostrato l'estranietà perché c'è un giudice in Italia perché sennò va tutto a chiacchiere e a allora non diciamo che c'è un protocollo di legalità che ci sannirà no c'è un protocollo di legalità talmente rigido che purtroppo stante anche alle opinioni poi del TAR è talmente rigido e forte che nelle maglie ha preso anche delle aziende che non centravano nulla con la malavita organizzata detto questo noi abbiamo ho detto prima dei dati precisi su Expo 50.000 posti di lavoro all'interno della città di Milano e addirittura 190.000 contando tutto l'indotto compreso a livello italiano perché quando anche Letta e adesso Renzi dicono che l'Expo per Milano conterà quasi un punto di pille è la realtà quando vengono 20 milioni di persone in Italia l'Italia ha 60 milioni di abitanti ne arriveranno 20 milioni che magari staranno due giorni a Milano a vedere l'Expo però poi possono girare l'Italia possono girare la Lombardia c'è tutto un indotto che si è formato vedete tanti alberghi che si stanno costruendo a Milano tanti che si ammodernano ristoranti c'è tutta una filiera del commercio che potrà ripartire ma meno male faccia sentire Giampiero e poi Nicola buonasera Giampiero buonasera Laura sono molto sintetico bravo mi è potuto congratulare con i due ospiti precedenti che rappresentano veramente il valore effettivo che c'è nella popolazione italiana spero che ci stiano ascoltando riferiremo valore grazie tantissima considerazione tra l'altro Mariani non so cosa produce ma Castoldi tra l'altro volevo complimentarmi macchine agricole certo che ho potuto apprezzarli dall'età di 10 anni io stavo già lavoricchiando un po' con i prodotti di Castoldi perché fa piccola motorizzazione agricola certo e quindi lei era il suo settore lì avevo già a che fare con i suoi mezzi grazie Giampiero grazie per il suo intervento riferiremo e spero che siano in ascolto Nicola buonasera Laura io vorrei parlare se è possibile di democrazia chi è democratico e chi non lo è e chi è democratico e chi non lo è perché stanno attaccando il Movimento 5 Stelle dicendo che non sono democratici io vorrei sapere dal titolante PD e PDL che hanno messo alla fame milioni di italiani sono democratici loro? aspetta Nicola Nicola ok allora volevo che adesso l'altitonante qui le risponderà come ha visto oggi c'è la carcano ieri avevamo Stefano Buffagni lei volevo chiedere ed ecco per questo ho telefonato dicendo seriamente chi è più democratico il Movimento 5 Stelle o chi ha lei è d'accordo che hanno messo la fame milioni di italiani lei è d'accordo sull'espulsione che è avvenuta ieri? no no per il semplice motivo che si dà ha chiesto anche a Buffagni e sarei arrivato alla carcano di sparlare non di parlare stessa linea di quindi cioè un male per tutti grazie Nicola grazie davvero allora a carcano non era un agguato a Nicola ieri hanno chiamato molti vostri sostenitori e anche con Buffagni la linea era un po' questa no perché diventa un qualcosa che però poi lo chiedo a lei che fa del male comunque è come quando due quando succede una cosa brutta fa del male per cui a pro o contro però poi lo chiedo allora mi sembra prima di andare a dare la linea al GR deve rispondere altitonante mi risponda a Nicola chi è democratico e chi no Nicola buonasera grazie della domanda del tono Grillo ha detto che non è democratico io Grillo che se ricordate in quello streaming ha detto no io non sono più democratico quindi l'ha detto Grillo però gli dobbiamo dare una coerenza a Grillo perché poi dice che non è più democratico ma lo attua all'interno del suo partito quindi il primo che alza il primo che non condivide la linea quindi di un partito dove ci può essere una discussione deve essere veduta e viene cacciato quindi dobbiamo dire che una cosa Grillo ce l'ha che è la congruenza fra quello che dice che non è democratico e quello che fa chiudo con il punto sulla democrazia l'EPD Forza Italia hanno lasciato il popolo italiano alla fame io ricordo solo un dato poi mi piace sempre vedere il futuro Berlusconi si è dimesso nel 2011 come sappiamo è uscito anche un libro con una manovra di palazzo delle grandi banche perché non è stato mai uno delle lobby delle lobby finanziarie però quando è scoppiata la bolla finanziaria nel 2009 l'Italia ha avuto il meno 5% di PIL cioè il meno 5% quando adesso con i governetti lette e quant'altro c'era meno 0,1,0 non mi pare che gli italiani siano stati lasciati alla fame addirittura non si pagava l'IMU il resto sono chiacchiere allora noi abbiamo un abbiamo la nostra Sonia questo stacchetto ci porta Sonia vieni qua vi fino a me buonasera stai lì stai lì stai lì in mezzo così siamo in quattro così siete in quattro allora abbiamo lo diciamo per i nostri ascoltatori in radio Silvana Carcano Movimento 5 Stelle Fabio Altitonanni Sonia Bedeschi per il mio protagonista e il cartello di Renzi la foto la sagoma di Renzi in mezzo a noi in mezzo tra noi perché tu sei andata tra noi tra i cittadini esatto al mercato tanto per cambiare perché al mercato c'è la bocca e la voce della verità e cosa ti hanno detto lo ascoltiamo lo ascoltiamo mi piace molto più così o più così ma l'importante è che faccia bene le cose devo dire che l'immagine è quella che conta meno Berfi è una persona affidabile innovativo proprio che è una persona rivista è il diuragnendis è andato senza che nessuno l'autorizzasse il voto non conta niente noi non contiamo niente Napolitano che comanda amore bello vicino a te come non ne capisci non ne capisci che non ne voglio neanche sapere perché non ce n'è uno buono ci voleva il voto del cittadino ci voleva lì c'è la mafia stop avevano detto che la voce di popolo voce di dio ma dove? speriamo finalmente contento è di vederlo al mercato Renzi buon lavoro vai avanti ma stiamo scherzando tre legislature che Monti Letta e Renzi Salina ammazzava i suoi giusto e pagava anche i funerali questi qua ci fanno ammazzare e così ci paghiamo anche il funerale noi per me è un baruscia si omiglia un po' al Silvio dice ah si 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 sofradell hai capito il Silvio è sofradell il Silvio è sofradell allora grazie per questa voce popolo voce mercato abbiamo sentito diverse anche sensazioni però questo è quello che tu hai raccolto noi l'abbiamo riproposto ai nostri ascoltatori e ti aspettiamo per la prossima incursione certo siete contenti adesso dovete rispondere via grazie si la carcano ha delle idee ecco la faccia aspetta mi ricordo la cestina potrebbe vangare allora la presidente della camera per la prima volta nella storia della ripudica italiana ha tolto la parola all'opposizione ha tolto la parola su un decreto che non è nemmeno omogeneo come argomenti non era perché è ormai passato perché toccava due temi ben distanti differenti tra di loro Banca Italia e Imo su questo noi stavamo facendo la famosa tagliola per i nostri ascoltatori che così ricordano quei fatti però la tagliola non esiste non esiste nel regolamento della camera esiste nel regolamento del senato evidentemente la Boldrini non è all'altezza di essere il presidente della camera perché a leggere il regolamento della camera non esiste nessuna tagliola esiste al senato quindi lei si è arrogata il diritto di togliere la voce all'opposizione che è il sale della democrazia e poi pretende anche di calmare gli animi quando in un unico stato si dice che l'opposizione è una parola che si chiama dittatura le persone che sono state zittite hanno anche reclamato ma guarda un po' oggi si prendono questi giorni di sospensione che cosa vuol dire la sospensione non potranno partecipare ai lavori sì per chi 5 giorni chi 10 giorni certo però come a scuola una sospensione una sospensione come a scuola noi continueremo su questa linea se pensa in questo modo la presidente della camera di cambiare il nostro stile forse ha capito male c'è un unico modo affinché la democrazia funzioni in maniera davvero forte che è quello del fare opposizione quando si è all'opposizione e governare quando si è al governo noi siamo abituati ad avere da almeno 20 anni partiti che pensano e mischiano di fare opposizione quando non sono all'opposizione e di essere al governo costantemente perché c'è questo partito unico di grande inciucio che continua a portare avanti i propri interessi lobbistici noi siamo davvero una voce differente rispetto al coro questa cosa li destabilizza non sanno nemmeno gestire la situazione arrivano a fare le questioni ridicole che stanno facendo in questi giorni questa è la voce di Silvana Carca del Movimento 5 Stelle altitonante voi siete all'opposizione anche voi adesso come sta vivendo questo arrivo di governo Renzi come la vede per tornare alla telefonata di Nicola di Nicola si è vero perdone Nicola dopo rispondo anche io Nicola c'è un'ulteriore risposta che l'ultimo presidente del consiglio votato dagli italiani si chiama Silvio Berlusconi 2008 siamo nel 2014 ancora non abbiamo questo piacere di poter tornare alle urne perché nella realtà ormai decidono tanto le lobby e lo stesso Renzi che ha fatto una manovra di palazzo come Letta attraverso una manovra di palazzo era andato a fare il presidente del consiglio o meglio all'inizio doveva essere il governo dell'argentese gli interessi degli italiani ma già dopo pochi mesi si era capito che era un governo di pura sinistra poi con la cacciata di Berlusconi non ne parliamo quindi un governo che si reggeva su i trasfughi di Forza Italia adesso è la stessa cosa solo con una lotta di potere all'interno del PD gli italiani vengono considerati all'ultimo posto i cittadini e io credo che anche qui nei fatti Berlusconi dimostra che abbia una concezione alta dell'Italia perché lui al potere da presidente del consiglio è andato sempre con il voto e addirittura dopo che è stato votato hanno sempre cercato di buttarlo giù in maniera antidemocratica questi sono i fatti cosa ci aspettiamo da Renzi noi abbiamo dichiarato che siamo all'opposizione ma un'opposizione responsabile nel senso che se ci sono cose costruttive e ci sono cose importanti nell'interesse che danno dei vantaggi ai cittadini dei vantaggi concreti noi ci siamo e le voteremo mi pare che la premessa sia negativa perché Renzi se ricordate ha detto la prima cosa che faremo sarà la legge elettorale così quando si voterà perché il vero tema è che qui si vota e poi non si sa chi vince quando si voterà la sera si saprà chi ha vinto doveva essere messa in agenda dal governo ieri non è stata messa quindi se questa è la partenza di Renzi sono molto molto preoccupato questa è la voce di Fabio Altitonante e Forza Italia Silvana Carcano per Nicola Movimento 5 Stelle beh io sono contenta della domanda di Nicola perché evidentemente ha colto il segno si parla tanto di espulsioni in questi giorni nel Movimento 5 Stelle non c'è stata un'espulsione antidemocratica come invece come sempre ci vogliono dipingere il sistema di informazione esiste una base un territorio diversi territori che hanno sfiduciato dei senatori che a differenza di quello che succede invece negli altri partiti dove vediamoci vati si dice tanto si parla tanto davanti alle televisioni di votare contro di non essersi più parte del partito ma poi il voto è sempre quello allineato altrimenti sì che scatta l'espulsione da parte di due dirigenti di partito che mandano via lontanano degli iscritti al partito nel nostro caso invece esiste una base che monitorando i propri portavoce in questo caso per mesi perché sono mesi che i quattro senatori stanno tenendo un atteggiamento contro il Movimento 5 Stelle li hanno sfiduciati la base i senatori tutti perché noi non abbiamo una classe dirigente tutti i senatori e i deputati in congiunta in diretta streaming hanno fatto una riunione per decidere come comportarsi perché nessuno decide da noi chi buttare fuori chi hanno chiesto poi di ratificare la loro decisione alla rete la rete ha dato un segnale chiarissimo perché più di 30.000 persone hanno votato a favore dell'espulsione tra cui anch'io quindi esattamente l'opposto di quello che viene dipinto sui giornali è successo nel Movimento 5 Stelle che il movimento dal suo interno in maniera molto orizzontale con una decisione che è stata data a tutti ha deciso che queste 4 persone non erano quelli che sono usciti in scia diciamo così tra virgolette beh ben venga perché evidentemente si sentivano più allineate alle persone che sono state mandate fuori vede noi quando siamo entrati dentro nelle istituzioni siamo entrati con degli obiettivi molto chiari e li abbiamo sempre dichiarati cioè mandare tutti a casa quelli che hanno portato l'Italia allo sfascio e non certo entrare in dialogo con loro cercare di ragionare di contrattare il nostro programma elettorale con queste persone se abbiamo l'informazione contro abbiamo tutti i partiti contro abbiamo davvero una muraglia contro noi stiamo cercando di fare una sorta di guerra a volte con le fionde con le cerbottane con quello che riusciamo e stiamo comunque facendo bene e stiamo comunque portando a casa dei risultati se però dei nostri colleghi che dovrebbero lottare insieme a noi ogni tanto si girano e questo avviene da queste 4 persone regolarmente un giorno sì e l'altro anche si gira la fionda e la cerbottana ce la spara contro beh evidentemente ha bisogno di andare in un altro partito nulla di male è legittimo che le persone cambino idee è assolutamente legittimo c'è da dire che forse era il caso che anche loro perché non se ne sono andati? beh è più facile dire adesso mi hanno buttato fuori è ovvio è ovvio ci hanno portato allo sfiancamento io li conosco bene le persone che lavorano giù in senato con questi 4 senatori li hanno portati allo sfiancamento e adesso vengono a dire ci ha sbattuto fuori Grillo Grillo e Casaleggio comandano è facile Grillo e Casaleggio comandano no ho appena spiegato com'è andata Grillo e Casaleggio non decidono assolutamente nulla non sono mai entrati in nessunissima decisione che riguarda noi portavoce nessunissima il giorno che arriva Grillo e Casaleggio mi dicono come votare o mi dicono come prendere posizione rispetto a un provvedimento io sono la prima ad andarmene non è mai successo non è mai successo quindi se poi queste quattro persone continuano a sparare contro gli stessi colleghi con i quali prima avevano condiviso un percorso beh insomma dai è normale che vengano battuti fuori certo mi sembra l'unica cosa che non non torna a me io non sono lì non c'era che non mi è chiara vorrei chiarire soprattutto i nostri ascoltatori è rispetto al fatto che magari lo sparare corto era una serie di decisioni che si andavano a prendere in cui magari confrontandosi in maniera diversa io penso che all'interno di un partito anche tra di voi ci sono delle linee di pensiero ho capito cosa voglio dire ma perché provente non sapete come funziona all'interno del Movimento 5 Stelle il confronto all'interno del Movimento 5 Stelle è sfiancante è sfiancante noi arriviamo a fare riunioni ma sia noi nove in regione ma sia i nostri deputati questo vale dalla regione a qualsiasi livello su ogni decisione decidiamo sempre tutti insieme lo sa benissimo anche lui perché quando arriva da noi una mozione come una volta fatto al titonante come fanno tutti arriva con una mozione faccio l'esempio dicendo carcano guarda su questo argomento me la firmi me la voti noi ogni volta diciamo lo devo portare nel gruppo beh no allora hanno molta più autonomia ma non autonomia cioè noi decidiamo siamo meno burocratici se noi dobbiamo cambiare la Lombardia cambiare l'Italia se iniziamo a incartarci fra di noi non è incartarci dove ci presentiamo avete più fiducia uno dell'altro è certo ma non è questione c'è la fiducia c'è un programma ah no figuriamoci c'è una questione di programma elettorale i programmi elettorali devono essere rispettati e noi continuiamo a fare work in progress questa condivisione quando questa condivisione viene decisa oggi e il giorno dopo qualcun altro continua a fare l'esatto opposto continua a fare quello che vuole ci vi può fare un esempio di un esatto opposto dai senatori? sì delle quattro persone che hanno sparato contro ma li ha visti mille volte penso alla radio ma sbagliano non è una battuta carca non vorrei proprio il suo sì ma prendiamo esempio l'impeachment cioè hanno deciso per l'impeachment hanno scritto la lettera eccetera e il giorno dopo forse il giorno stesso a ottobre Renzi sapeva dove andare a prendere questi soldi per poter diminuire l'IRPEF e l'IRAP adesso sembra che ci sia un attimo si spargli di 7, 4, 5, 10 miliardi Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle sono d'accordo con la sono d'accordissimo la presenza della Camera è inadeguata considerare un gruppo politico eversivi significa significa questo significa non essere all'altezza e secondo me secondo me si dovrebbe dimettere in realtà bisogna comprendere questo che l'ho detto tante volte il Movimento 5 Stelle non è altro che la di tutte quelle persone che sono stufe ora nelle modalità possiamo discutere possiamo parlare sono criticabili ma in realtà la coerenza la coerenza che ha questo gruppo parlamentare non è non ci si può nascondere dietro un dito c'è in realtà che cosa succede? succede questo che i deputati cioè quando uno viene eletto deputato la legislatura dura 5 anni scusate se sono così crudo ma per 5 anni le persone che sono lì prendono lo stipendio è un bello stipendio bisogna considerare anche questo prima di dire si va il voto non si va il voto cioè ci sono tante dinamiche che si ci sono interessi dice lei per cui magari al voto non ci vogliono andare io penso proprio che una parte per il quale al voto non si vuole andare certo ho la sensazione poi che qualsiasi governo si stauri negli ultimi anni forse noi ci proviamo dietro 20 anni di mal politica mal gestione diciamo ho questa sensazione che ci sono tante promesse all'inizio poi quando si arrivi lì sembra che ci sia un qualche cosa e tutte queste cose che vengono dette poi non vengono effettuate non so che cosa succede quando si si staura un nuovo governo ripeto Matteo Renzi devo salutarla Davide perché ho pochi minuti grazie grazie davvero allora ne ha per tutti mi sembra che comunque perlomeno magari non sui metodi però vi abbia salvato solo voi del Movimento 5 Stelle allora al titonante c'è tanta tanta sfiducia c'è tanto anche malcontento ci sono anche tante reali e oggettive difficoltà credo che voi in regione se anche solo parliamo di Lombardia e non di Paese Italia abbiate fotografia di questo sì noi abbiamo risposto a questo con una legge il 18 febbraio che si chiama la legge Impresa Lombardia che permetterà alle aziende abbiamo creato lo sportello unico per aprire le aziende i cosiddetti SUAP sportello unico attività produttive che erano tutti disorganizzati nei comuni non c'era una regia noi in quella legge abbiamo inserito questo sportello unico quindi per le attività produttive messo in rete in tutti i comuni della regione è una legge in cui ci sono stanziati 20 milioni di euro per rilanciare un po' le start up dare la fiducia soprattutto perché negli ultimi anni è mancata la fiducia a tante imprese non solo la battaglia contro la burocrazia perché qui per aprire un'impresa addirittura ci sono alcune autorizzazioni che compongono scomposte da 84 passaggi burocratici che uno fa veramente fatica a capirli e quindi va via tantissime aziende sono andate all'estero per la burocrazia alcune aziende che avevano chiesto dei permessi a Brescia sono andate in Qatar potrei fare tantissimi esempi quindi questo è questa è la realtà sono dati posti di lavoro che si perdono perché poi nascono sempre i comitati per il no questo dà fastidio quindi c'è la burocrazia quindi tantissime iniziative imprenditoriali che sono state fatte fuggire dal nostro paese allora noi dobbiamo tornare a dare delle garanzie e soprattutto dare la fiducia agli imprenditori che possono investire in Italia perché la domanda banale che uno fa è ma adesso anche se uno avesse 100 mila euro 50 mila euro da investire da aprire un'attività commerciale conviene o no? non c'è fiducia e quindi si fa altro noi con questa lettre che ha proprio nel titolo impresa Lombardia vogliamo rilanciare questo aspetto stanziati 20 milioni di euro quindi con la possibilità di finanziamenti attraverso Filombarda una serie di iniziative e poi c'è una parte importante che è il made in Lombardia e Lombardi perché anche qui la qualità dei nostri prodotti parliamo sempre delle importazioni dalla Cina noi dobbiamo valorizzare e soprattutto evidenziare quello che si produce sul nostro territorio perché non può essere la risposta alla crisi solo cassa integrazione in deroga piuttosto che mobilità cioè così non generiamo posti di lavoro ma è sempre un peso che si va sempre più accumulando quindi i posti di lavoro li creano le imprese questa è la realtà ed è sempre stata la realtà nel nostro paese da quando c'è stato un rallentamento in primis la Lombardia dove si ha il 30% dei PIL ne ha risentito qui ci sono più di 100 crisi aziendali ne leggiamo ogni giorno dobbiamo rilanciare e ridare la fiducia noi ci stiamo provando quindi impresa Lombardia e poi un altro un'altra delibera di giunta Lombardia concreta che è quella di poter far investire i commercianti se vogliono rinnovare il negozio in vista di Expo cambiare i macchinari c'è una serie di iniziative per attrarre la Lombardia e attrarre Lombardia le aziende e soprattutto ridare una speranza agli imprenditori che vogliono ancora investire su questo state lavorando insieme c'è una visione comune della necessità ovviamente questa è una legge regionale legge regionale che è passata per tutti i gruppi e quindi è stata portata per tutti i gruppi quello che chiedevo quindi laddove ci sono i percorsi esatto questo è infatti un punto che richiama quello che diceva il signore prima c'è la nostra coerenza l'avete votata bravissima esatto noi abbiamo sempre detto in campagna elettorale che noi non guarderemo in faccia nessuno indipendentemente da dove arriveranno le proposte e i provvedimenti destra o sinistra se saranno allineate al nostro programma noi le appoggeremo questi ma sono tantissimi casi in cui noi ci spostiamo lo sottolineavo apposta proprio perché diventa importante e quindi governiamo bene ma sul fatto di riuscire però c'è da dire una cosa però chi invece fa di solito opposizione ideologica sono gli altri partiti che invece bocciano qualsiasi cosa a prescindere a dimostrazione di quello che si diceva prima la seria politica la si fa senza guardare da chi arriva un provvedimento perché quando è buono quel provvedimento va votato a favore deve essere così perché arriva i cittadini sono d'accordo noi continuiamo con questa coerenza e mi sembra dimostrata anche in questo io la ringrazio per l'anteprima cominciano uscire le prime notizie 15 giorni di sospensione per i lavori parlamentari al deputato Stefano D'Ambruso di scelta civica per aver colpito al volto Loredana Lupo del Movimento 5 Stelle durante i disordini della Camera del 29 gennaio l'ufficio di presidenza ha poi inflitto 8 giorni di sospensione agli 8 deputati del Movimento 5 Stelle e 10 giorni ad altri 23 più dura la sanzione per Silvia Benedetti 12 giorni di stop che chiede che diede un morso al commesso questo in sintesi perché non ho anche più tempo ovviamente si approfondirà anche questa notizia grazie a Silvana Carca del Movimento 5 Stelle grazie al consigliere regionale Fabio Altitonante buon lavoro per entrambi in Regione Lombardia da parte mia grazie a tutti per averci seguito appuntamento a domani alle 18 come sempre con Laura Costa e Pane al Pane